Ben trovati e benvenuti su Telecastrovillari.tv, la web tv di Emerson Communication dedicata alla città di Castrovillari e all'area del Pollino, la prima web tv della città di una testata giornalistica Slow Time. Quando abbiamo deciso io e il collega ed amico Gianvrango Longo di fare questa nuova impresa abbiamo pensato di fare una tv libera, una tv libera per noi e per voi. Liberi nella scelta autonoma di trattare i fatti liberi voi di vederci secondo le modalità che preferite negli orari che più amate comodamente a casa quando volete con chi volete. Liberi insomma di essere informati dall'altra tv che si trova sul web dove la creatività non conosce limiti ed è libera di esprimersi nello spazio virtuale del mondo. Il nostro palinsesto è continuamente in espansione ed è fatto da noi ma anche da voi, dalle vostre proposte, dai vostri video, dalle vostre richieste, dai vostri contributi. Possiamo dialogare tramite facebook, email, telefono, possiamo fare tv insieme. Desideriamo con umiltà e semplicità essere i vostri occhi sulla città e sull'area del Pollino, raccontarvi in immagini il presente ma anche il passato e il futuro di una città amata e odiata, di uno dei posti ritenuto tra i più vivibili al mondo ma anche di uno dei posti al contempo ritenuto meno piacevoli del mondo. Vogliamo raccontare insomma in immagini e parole le contraddizioni di una città che sembra sempre perdere il passo ma che è capace allo stesso tempo di ritrovarlo, di reagire e di sopravvivere rianimandosi con decine di iniziative soprattutto di carattere culturale. Vogliamo insomma fare tv, fare tv con l'allegria colorata che trasmette il nostro logo realizzato da Luciano Mastrascusa, con l'allegria dei giovani per comunicare con loro, con la gioia e la leggerezza che solo i giovani sanno trasmettere. Fare tv per riprendere un'esperienza ventennale nel campo dei media e della tv, per ritrovare il piacere di fare televisione, per recuperare la memoria storica e tramandarla a chi verrà dopo di noi disponendo di un'ampia videoteca online. Per abbracciare le nuove tecnologie fino in fondo, offrire la tv tagliata su misura per il new media, fare tv al tempo del web 2.0, una tv interattiva e da vedere quando si vuole e ovunque si vuole, su richiesta dell'utente e telespettatore che può fruirne a proprio piacimento sul pc, sullo smartphone, sul tablet ed anche sulla tv di casa collegata al computer. Fare tv con serietà e professionalità per servire al meglio la comunità. Fare tv per dialogare con i cittadini, con coloro che per ragioni di lavoro o di studio hanno abbandonato la città o si sono momentaneamente trasferiti fuori sede. Collegarci con il mondo, a partire dal mondo, dalla terra in cui operiamo, quella di Calabria e Basilicata. Tutto il resto lo faremo insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti.